Signor giudice, mi sto cambiando la mia mamma! Signor giudice, mi sto cambiando la mia mamma! Ecco, non sto cambiando la mia mamma! Signor giudice, mi sto cambiando la mia mamma! Signor giudice, mi sto conosciuti in un'altra cosa! Signor giudice, questo è il suo sacco! Sì, è lì, è lì. Marco, cos'è questo vestito? Lo da giudice. Eh? Lo da giudice. Vuoi mandare dentro qualcuno? Sì, panfilo. Chi? A me. Ah, panfilo, vedere qui. Puoi vedere giudice? Sei vestito di che cosa, panfilo, qui? Da imputato. Da imputato? Da imputato. Colpevoli. Tubo della mutua qua cosa significa? Chi sei tu dentro lì? Brutto. Biffi. Comune di Paderno Caldo. Comune di Paderno Caldo. Comune di Paderno Caldo, polizia urbana. Voglio vederti dare qualche multa dopo. Eh? Alessandra. Mamma. Mamma. Ciao. Ciao. Ah, sì, sì, sì. Sei vestito di che cosa? Eh, io sono vestita dalla donna che più che è mio marito. Marito, vieni qua! Marito! Ufriaco! Vieni qua! Vieni, vieni! Francesca, cos'è quella cosa lì che hai in mano? Eh, questo qua? La sveglia è tutta rotta. La sveglia è tutta scassata. Vediamo qui che ci sono i preparativi qui. C'è un pezzo, c'è un pezzo, c'è un pezzo. Dino, di che cosa ti sei combinato? C'è un pezzo, c'è un pezzo, c'è un pezzo, c'è un pezzo. C'è un pezzo, c'è un pezzo, c'è un pezzo. 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 Mi stai riprendendo? Tu chi sei tu? Io mi chiamo Nicoletta Varisco. Tu cosa ti sei combinato qui? Io mi sono messita alla scuola di una volta. Fate vedere un po', vai un po' indietro. Questa è la maestra, la maestra Carolina. la maestra Carolina. Tu chi sei tu? Capriela. Io, Gabriella. Ve lo dite io chi sei, ma Gabriele. la maestra Carolina. La maestra Carolina. La maestra Carolina. Cosa fate lì in Roche? Maestra Erika. Si è fatela permanente questa mattina. Mi sono fatta male, sono nervosa e mi sono ricercita bene. Comprata. Vai,不会. Beh-lì. Vai,不会. Guarda, è Morning. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda. 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 Guarda, guarda. 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 Dovremmo andare avanti un po' eh Simenti Salve Non lo so Uno Dino L'alunno Mauro Fatti vedere Bello, bello No, non mi chiedi, io avevo caso, avevo fatto buono Che cosa? Sì, ma tanto io Va bene Va bene Sì 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 Luca Sì Sì L'ho mangiato Sì 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 Davide Davide! 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 Sydney, Sylvester! Davide Typhonson! Davide! Davide! Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. 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 Tutti? Grazie a tutti.